Ragazzi ieri ho sistemato tutto l'ufficio in una maniera incredibile ho sistemato tutto l'armadio facendo la cernita ragazzi sono stata bravissima Cioè ve lo giuro sono stata di una bravura veramente incredibile cioè non sto scherzando Cioè guardate quanto sono sistemata sopra tutti i cappotti camice poi sotto le felpe con i pantaloni e sotto abbiamo tipo tutti gli scatoloni delle cose del computer perché purtroppo io sono piena E' come se non bastasse in genere le persone normali negli armadi vanno ad inserire i vestiti principalmente Sempre Martina che nell'altra lanta dell'armadio sotto ai vestiti delle cose di casa e sopra ve lo vado un po' a zoomare Si ha leggermente un po' di scatoli di qualcosa effettivamente parlando ci sta utilizzando l'armadio come se fosse uno sgabuzzino Ma è dopo tutto è una cosa normale nel senso cioè capito ci sta effettivamente parlando Andiamo da Lunar Andiamo da Lunar's Boys Always Zubi 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 E va capito il condizionatore il 4 ottobre se fa ancora caldo ci sono tipo 26 gradi In cazzo ce ne sono 25 cioè che è inverno inverno che ancora deve arrivare però fa ancora caldo eh Sono tranquilla che mi vedi a sistemare in felpa Nooo Ma era Ronnie veramente? No non ci credo Però c'è uno qua sotto eh Ma non lo so se era Non lo so se era già qua dentro il tipo Ma sta bene Ma non lo so se era Servirebbe la pizza per portare sul loot Sennò devo fare per forza No 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 Ma se vedete che mi sparavo con una distanza eh No 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 Grazie a tutti Ma hanno fatto già il boss? No, non me lo dire che impazzisco, eh Don't tell me Ah, capito Ah 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 Un po' troppa gente, maybe L'unica vecchia è che ho un impulso Ma c'ho il perk del... del cos... Ah, sì, ce l'ho Ah, beh, allora posso Vado a lootare le cosine Sono nel chilling Minchia, raga, ma che loot c'è qua? C'è chiunque passa da sta zona Qua sì, si riempie proprio il culo, lo giuro La mia perk della mitra Ok, no, mi tengo quello del... Della pizza per sicurezza come backup Perché ho solo una slurp e non è... Ma io tenerselo Non è che con questo va un po' il fight è durato un'eternità Erano tre persone, ovvio che è durato un po' di più Ma letteralmente l'ho bombato C'è troppo forte il charge Che dice di no e che non lo sa usare Che dice di no e che... Che sfigao Oh, capito Raga, ho trovato a diva una base che mi ha 30 splash Ve lo giuro su dio Raga, ho trovato un po' di più Raga, ho trovato un po' di più Romano, charge più lanciagranate Infermabile Letteralmente infermabile So strong E letteralmente erano le kill che aveva detto Kla Cioè nel senso la sfida non c'era più Ovviamente in atto non c'era Però aveva detto che 14 kill era impossibile